ANAS e le amministrazioni locali sono impegnate nel contrastare il fenomeno dell'abbandono abusivo dei rifiuti lungo le strade della Calabria. Le attività di bonifica e rimozione dei rifiuti stanno interessando in questi giorni la statale 280 dei Due Mari in collaborazione con il comune di Settingiano in provincia di Catanzaro e l'intero tratto della statale 106B in collaborazione con i comuni di Locri, Siderno, Marina di Gioiosa, Grotteria e Roccella Ionica in provincia di Reggio Calabria. Inoltre, lungo la 106B è stato installato un sistema di videosorveglianza per arginare il fenomeno che si manifesta anche subito dopo gli interventi di pulizia, specie in estate, periodo in cui l'attività di pulizia diventa sempre più difficoltosa e dispendiosa.